Ciao, sono Nicolando, ho la sindrome di Down, 47 di comuni, ho tanta rinta, ho tanta tenacia e evitato di non ce la faccio. Evitato di non ce la faccio, che è anche il mio motto, perché io ho preso 4 nidane d'oro ai mogliari in Sudafrica, 4 dori, 1 gente, ai mogliari in Sudafrica, a Blofontein, poi mi piace anche, ho partecipato anche a ballare con le stelle, perché ballare mi piace tantissimo, perché lo sport mi aiuta tantissimo, perché lo sport è ovviamente importante, comunque, poi ho scritto un libro, ho scritto un libro con Alessia Cuciani, che abbiamo scritto insieme, è una giornalista della Gazzetta dello Sport, il titolo è vietato di non ce la faccio, perché voglio fare capire ai ragazzi che devono imparare tanto e avere tanta volontà e devono crederci e tanta forza e tanta grinta e senza paura, dovete andare fino in fondo al taguardo.